Il Presidente è rimasto contentissimo, del resto la nostra attività negli ultimi due anni ha prodotto degli effetti visibili a tutti. Un ospedale come quello di Solofra, che aveva delle grosse carenze rispetto alla sicurezza e rispetto all'organizzazione, lo abbiamo rifatto da capo a piedi e attualmente siamo quasi in dirittura d'arrivo per la riapertura definitiva e completa. Abbiamo attivato già dalla primavera scorsa tutto il piano degli ambulatori, abbiamo attivato la radiologia, il laboratorio di analisi, la radiologia tra l'altro molto migliorata con una risonanza magnetica da un tesla e mezzo. Abbiamo aperto e ci sono degenze in medicina interna a indirizzo epatologico al secondo piano. Al terzo piano ieri abbiamo aperto la riabilitazione e i primi ricoveri si avranno per la fine di questa settimana. E come dire, la parte conclusiva, che è la parte anche più qualitativamente importante, le palestre della riabilitazione, in particolare una delle tre palestre che è attrezzata con tecnologie di grande avanguardia, sia robotiche, sia informatiche, poi c'è un esoscheletro, quindi siamo a livello tra le prime due strutture d'Italia per attrezzature e per organizzazione per la riabilitazione. Stamattina è venuto a inaugurare il Presidente qualcosa di straordinario. Cinque sale parto, sale travaglio, parto, perché nello stesso luogo si può iniziare il travaglio e si può anche partorire, completamente attrezzate sia per il parto in acqua, per il parto tradizionale, per il parto in piedi e con delle isole neonatali nel caso appunto che il neonato possa avere malauguratamente qualche problema durante l'evento. Tutto nell'insegna della più grande attenzione alla umanizzazione del luogo, quindi con degli scenari come quelli che sono alle mie spalle, scenari diversi, c'è uno scenario di Capri, uno della Costiera Malfitana, uno di Ischia, il mare e così via. Quindi c'è stata una grandissima attenzione proprio a questo momento, che è un momento importante per la donna, è un momento importante per la coppia ed è un momento importante ovviamente per la salute del bambino. Tutto questo penso che ci ponga insieme ai risultati che sono sui 1.200 nati l'anno che facciamo in questo punto nascita dei tassi di cesareo che sono i più bassi della Campania. Quindi accoppiare l'umanizzazione, la qualità, l'efficacia, penso che sia un risultato davvero di cui andare fieri come ospedale e come Regione Campania. Infatti il Presidente ha colto immediatamente questa caratteristica di questo ospedale e da tempo, devo dire, non è da oggi, da tempo lui lo considera uno degli ospedali più accoglienti della nostra Regione.